Buonasera a tutti quanti, questa sera piove come al solito, adesso piove vicino a poco a poco, però tra poco l'urugano arriverà, la menta grandinale arriverà, il cielo si vede, sono le ore 19.52, venerdì 11 giugno 2021, ho messo tempo e tutto strano, stamattina c'erano 42 gradi, ora ci sono 25, tutto strano sul mezzo, il tempo, speriamo in bene, che era vera più calda possibile, dall'allone lì finalmente zona bianca, del tutto, le mascherine si tengono, però non c'è più il coprifuoco, meno male, anche al 5 al mattino bisogna che uscire, anche al 3 o 4 al mattino e non c'è nessuno che ci ferma, vi auguro una buona serata a tutti quanti e ci sentiamo dopo se comincerà a diluviare, ciao a tutti!